Mi trovo a Paolo VI, il noto quartiere di Taranto, precisamente in via della liberazione, nel plesso, in uno dei plessi di Arca Ionica, che è l'ex IACP, l'ex istituto autonomo case popolari. Ci sono dunque una serie di abitanti, di cittadini che sono appunto destinatari di questi immobili. La situazione qui è gravissima, è stata già segnalata da un abitante della zona nel gennaio 2023 a mezzo PEC e, ripeto, si sottolinea i rischi che correrebbero le strutture portanti del palazzo. La cosa che più mi preoccupa è che proprio la superficie, il livello, sta letteralmente sprofondando. Se voi vedete, proprio se noi misurassimo in centimetri, vedremmo che la superficie a un certo punto scende di livello e appunto precipita. Allora, a questo punto, giustamente, è stato chiesto da parte degli abitanti una verifica circa la stabilità, la sicurezza delle strutture portanti. Perché qui non vogliamo fare allarmismi, ma stiamo parlando di sicurezza, di pubblica incolumità, perché poi succedono le tragedie e poi chiaramente si piange il morto. Allora vogliamo evitare che si verifichi. Io da consigliere comunale di Taranto devo necessariamente intervenire, perché è vero che sono case di arca ionica, ma questa è un'area che rientra nel comune di Taranto. C'è uno stato di assoluta fatiscenza, è davvero un plesso che sta crollando a pezzi, che si sta sgretolando. Guardate qui, siamo agli esterni, guardate qui, emergono anche le strutture in ferro e poi tutto il cemento, vedete, si sta appunto sfarinando, si sta sgretolando. Guardate qui cosa rimane. Questo è ferro. Ma potremmo andare oltre, ormai in ogni punto c'è di tutto di più. Guardate qui, questa è una situazione gravissima, perché sono case popolari, ma non per questo i cittadini devono essere trattati in condizioni assolutamente disumane. Il cittadino paga la sua retta, paga la sua quota e giustamente pretende servizi. Qui, vedete, emerge proprio quella che, come si suol dire, l'anima in ferro. Vedete, oltretutto è anche pericoloso se qualche bambino si avvicina, ma emerge proprio, vedete, io non sono un tecnico della materia, ma come dire, il telaio, lo scheletro in ferro. E basti vedere ancora altrove, è tutta una situazione di fatiscenza, vedete anche i balconi, anche lì pericolanti. Ecco, qui abbiamo la fioriera, ma la situazione più grave riguarda anche, vedete, i balconi che con qualche intervento si è cercato di metterli in sicurezza, per modo di dire, ma vedete, qui occorrerebbero interventi risolutivi e soprattutto non rappezzi, ma proprio una ristrutturazione completa. L'arca ionica i soldi ce li ha e allora li mettesse fuori e li destinasse a chi abita in questa zona. Ma, ripeto, ci sono, queste sono certamente priorità, ma la cosa ancora più grave, la cosa più grave, meglio, è quella che vi ho appena esposto, appunto circa il fatto che la superficie sta cedendo e quindi non vorremmo che vi fosse proprio un cedimento strutturale. Quindi se cede la base e sprofonda, non vorrei che poi alla fine fosse tutto il palazzo a indebolirsi progressivamente fino a crollare. È un indizio molto preoccupante vedere la superficie che quasi si inarca, quasi sprofonda. È stata fatta questa PEC, dicevo, a gennaio di quest'anno, del 2020, nessuna risposta. Io mi muoverò perché Arca dia risposte. Mandi un sopralluogo per verificare la sicurezza dello stabile. Poi magari può darsi che la situazione non sia drammatica, ma pur sempre una superficie che precipita, che tende a sprofondare, non è un buon segno e comunque non è sintomo di sicurezza. Certi guai non accadono oggi, ma potrebbero accadere domani, dopodomani. E allora è meglio prevenire che curare. Ma soprattutto la cosa che mi amareggia e mi ha spinto a intervenire è la PEC è stata fatta, risposte non ce ne sono state. Ora voglio proprio vedere cosa i vertici di Arca Ionica mi risponderanno e vedete che farò muovere subito il culetto dalle sedie a queste persone, in modo che verranno a verificare quello che sta accadendo.